Buonasera ragazzi, vi vedo sempre con un altro intervento. Noi siamo come i meccanici della Formula 1. No, dei rally più che altro, che lavorano di notte. Qui si dice, lavoro di notte, vergogna di giorno. Ho capito. Scusate, ma che state a fare? No, non sono notte come le mignote, scusate. Scusate, un po' di linguaggio. Scusate. Parliamo seriamente adesso, che state a fare? Un attimo perché fa caldo. Sì, ma qui va avanti il video. Stiamo cercando di illuminare questa Vespa, visto che è rimasto senza luci. Vi do un consiglio, c'è un negozio dei cinesi là, delle eccellenti lampadine LED. Ma guarda, c'ho l'accendino in tasca. La illuminiamo tutta, se è nel caso. Non c'è problema. E di dov'è questa Vespa? Purtroppo, la Spacola Piscalea è del nostro Presidente. Ma è diversa da quella dell'anno scorso, aveva un'altra moto l'anno scorso. Un tantino proprio. Un giusto, qualche anno è differente. C'era la tua. Ma tutti stasera dovete fare gli interventi per funzionare le Vespa domani? No, le abbiamo lasciate apposta per... Io potrei andare a chiamare gli amici dell'altro club qui vicino, se volete. Quale? Scalea, Scalea. Ah, è perché siamo... Siamo di Paola. Eh, voi siete di Paola. Ok, ragazzi. Buonanotte. 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 Te ne vai, ci lasci così. Tutto da tirare. Poi si è accesa la luce, guarda. Caspita, si è acceso. Complimenti, ragazzi.